Gratuiti nei porti e nelle stazioni, anche quella di Arezzo. L'ordinanza è stata firmata dal presidente della regione toscana Enrico Rossi. Dalle 8 di mercoledì 26 agosto sarà dunque possibile farli su base volontaria nei porti di Livorno e Piombino e successivamente anche nelle stazioni ferroviarie di Firenze, Pisa, Arezzo, Viareggio e Grosseto. Saranno le asla dalle stile le postazioni di accoglienza drive-thru o walk-thru nei porti e nelle stazioni indicate. Chi deciderà di sottoporsi al test dovrà attenersi ai comportamenti previsti per l'isolamento fiduciario fino alla comunicazione del risultato del test. Dovrà dunque rimanere al proprio domicilio entro le 24-36 ore successive. Per evitare lunghe attese nei porti e nelle stazioni, i soli viaggiatori residenti in Toscana potranno anche prenotare il tampone dalla propria città di residenza entro le 24 ore dall'arrivo. Il sito è quello di viaggiare sicuro.sanità.toscana.it. La prenotazione può essere effettuata già a partire dalle 20 di martedì 25 agosto o anche al momento dell'arrivo o della partenza.